Ehm, ok Proviamo un nuovo gioco Come mai è tutto così? Premi un tasto qualsiasi Ma va giocato col pad, vero? Ma poi non si sente una sega, aspettate Ora sì Un po' alto forse, lo abbasso Nuova partita Oh, c'è un ninjone sul tetto Minchia, la telecamera Resident Evil 4 praticamente Attacchi pesanti Ah, va sfondata la porta Oh, figo Oh, c'è un tizio Nooo, c'è il Perry Ma si inizia subito così? In allegria? Boia Aia Ok Il maestro Pai Mei Minchia, Pai Mei davvero Vabbè, andiamo avanti Oh No, bastoni no, eh Ah, lui è un amico Bella anche le ambientazioni Mi piace molto, eh Devo dire la verità Come primo impatto non male Bello Stazione da streaming Sono in casa di Blur Ah no, non è una cantina Marcia Quindi non può essere Ok, Dark Souls Oh Un tavolo Oh no, le armi No, no, Dario No, Tonna Eh Dio, madonna Bello, come un gioco dove si deve picchiare Bello E basta Senza tante cazzate La lore del gioco, ragazzi Scopriremo la trama La lore Boss Boss, mi sa Beh, mini boss Tutorial Belli volti Mi piacciono Bella anche protagonista Ganzo te Bravi Questa è una cosa bella Eeeh, vabbè Stanno da fase più tosta Aia Voto Che cazzo è la valigetta di Pulp Fiction Show yourself Nooo Ma non è morto il bimbo Quello che mi ha tagliato la gola Quella notte in cima alla mia lista Fa fortuna vendita Come è tagliata la gola Come ha fatto a sopravvio Sì, grazie al ciondolo, però Lo spiegherà meglio C'è una prima missione, dai Lo squat Sera Si pole I pole Adesso posso spaccare, dai Ah no, c'è la porta accadda Qui c'è qualcosa Oh Collezionabile, per forza, ragazzi Dai Collezionabile 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 Oddio Oh, tubo di stre Ehi là Com'è Com'è, eh Totò 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 Oh Io sono un guerriero Oh Eccolo Non bisogna parlare Non bisogna parlare Eh, mia madonna E vai a casa E siamo a posto così Vai Te E te ti piri Ale 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 Andata così Oh Cos'è quella lì? Una scheda? Oh Perché non me la prende? È illuminata Non è una scheda Ah no È un cellulare rotto Che figata Gli hai distrutto lo smartphone Mentre lo picchiavi Eh Non posso più tornare indietro Merda Eeeh L'ho scelta A scorrimento Vero Old boy Totale E dove vai? Ma dove vai? Jonathan Oh Oh Come oggi Toccare il futuro maestro De Wenzong No Fortissimo Ma è difficile questo gioco Allora il conto dei rimordi Somma alla sua età Ganzo Minchiavi Lui fa questa cosa Stronzissima Eh Niente raga Grazie Poi non so come schivare Quell'attacchi bassi Che mi fa Niente Cascua anche la seconda fase Cioè non Poi non Minchia non riesco a leggere nulla Di quello che fa Cristo Dio 42 anni C'è un casino ragazzi Riproviamo raga È tosta Inchia come se Chiaro Ia No 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 ... Dai... Goto! 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 Mamma mia ragazzi Disastroso E' faticosissimo Vabbè andiamo avanti Ma lui forse non andava picchiato Mia madonna vado a morire Vabbè un attimino Fammi almeno ragionare Oddio Come? L'hai chiamati te? Vaffanculo te la tua mamma ma scusami Eh L'hai chiamati te? Mio dio che casino Sì vabbè raga Ma qui manco il super saia Non fai niente No raga ma questi sono scemi Oddio io Carichiamo un po' Sì le bottiglie nel volto No 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 Dio Cristo Vai fuori lei No Questo stronzo Oddio C'è uno con la bottiglia dietro Fanculo te la bottiglia Dio Cristo Aspetta eh Devo trovare delle armi in giro Non posso andare avanti Sì Questo c'è chi è Sanji Che gli pian fa le gambe Sei proprio il W Chambler Una figa Bella lei Mid boss Aiaiai Già incazzata nera Arriva proprio incazzata Io Cristo Madonna ti levo un botto E la Raga però 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 Dio madonna eh E questa cosa qui Non la riesco a schivare Raga ma come cazzo si fa Porco due Porco Questo non riesco Immagino Sarà simpaticissima Lei Lei Non so dove è finita La mia arma Però va bene Poi non sto facendo Niente Dai raga Dai Ma quanto cazzo Dura questo livello Vabbè È impossibile Sono 50 anni Capisco più una sega Sono anche rincoglionito Sì Già Addio Vabbè non si Almeno si vede Com'è a 61 anni Vada bello però Sì Ecco Finalmente il boss Ha durato solo 40 minuti Il livello Sarà facile Poi quel bastone Simpatico Poi sei morti Al prossimo Cioè se mi sfonda C'è un'altra tentativa E poi basta Vabbè dai È fortissimo Sta cosa Va' velocissimo Velocissimo Ho perso il bastone Dai Voliamo vai Vai A posto Ok sono morto Dario vai con calma Attacchi troppo La cieca Io sono una scimmietta La cieca tu attacchi Devi prendere confidenza con le tecniche del gioco Io ho visto Un piccolo Tutto Non voglio attaccare la cieca Il mio maestro mi ha insegnato Non posso farlo Non me lo posso permettere Devo trovare le finestre Come dice mio padre Sabacco L'ha detto lui E io mi fido di lui Solo di lui Mamma mia Ma poi siete matti Ma poi non perde mai l'equilibrio Che non so La finestra Quando riesco a vedere la finestra Porco due Ragazzi Spero contro lui Non ti puoi parare Prova di più a schivare Sto provando Ragazzi Ma è tremendo Ma dai Ho poi il secondo livello Ragazzi Ma non è un po' troppino Un po' troppo Un po' meno C'è Ma come cazzo si può fare No se c'è Se io Ragazzi Faccio questo Vado al club E ricomincio Perché ho fatto il primo livello A vent'anni Giusto? Quindi io posso sempre ripartire Da vent'anni C'è una cosa Facciamo una round di allenamento Facendo un altro po' di esperienza Magari sbloccando un power up nuovo Tipo quello dell'inseguimento Che mi sembra molto interessante Soprattutto per come gioco io Proviamo di nuovo il club Andiamo avanti Ho paura Ho paura No Poi Se non ricordo male Abbiamo la mazza qui Bene Memoria Ho devi imparare Sto giorno BAM Adesso Di unicolo Ale Aspetta Ale Lo stai E lo Amico E questo Guarda Che culo Che culo Di merda Dai le fai schifo Veramente No Vaffanculo Ok Manca lui Io allora Guarda Che con calma Con calma Quanti soldi Si rigenerano Non ho detto Non Gordo Voi giocare Oppure vuoi morire Dignilo te Lo so Eccoci Ale Vai Così Massacrato da un minion Eccoci qua Eccoci qua Porco due Porco due Porco due Ok ragazzi Allora Dignilo te No C'est 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo una cosa, facciamo un museo per farmare, dai. Mi immagino sarà ancora più facile e simpatico. Mamma mia, ragazzi. Che delirio sarà questa geccia. Vedete che divertimento ci aspetta, ragazzi. Non ho capito, siamo in Cina o in Giappone. A Firenze, ah, ok. A Prato, ok. Dio Cristo! Che trappolone, oh! Boia! Questa animazione è tremenda, raga! Voi là? Oi, 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 oi. Degli usconi anche mi è venuto ad attaccare. Aia, oh, 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 fermo! Vecchiaccio infame. Drop your weapon! Drop your weapon la tua mamma, cioè. Ma vaffanculo, Silvione. Eh, avvi pazienza. Ah, lo scopettone. E' sorpresa, appunto. Eccoci qua. A due sono. Merda! Vaffanculo! Hai a fare in culo anche te, imbescille di merda! Vai, il boss del cazzo. Eh, Sanji, chi è? Vai, è noi il me. No! Oddio! E' un ciccio magro! E' un ciccio magro! No! Vedo una sega, un tosto buio. Vabbè, posso andare avanti. Lo scopettone. Voglio andare, voglio prendere lo scopettone. Come i veri uomini. Petente, è un'ora che ti consiglio. Dado Tiger, è un anno e mezzo e Dio che se non voglio consigli, non mi dovete romper i coglioni. Allora, non miodono. Tenamente un po' military. Con te non mi anonymous. Con te non mi sono. Archimo! Pesco! Ma è lei! E' il suo volto bellissimo! Che figata Eccola È gigantesca Ecco È una stas Un po' egocentrica Oh Una di lei È vera Sì, è lei Ok Le posso spaccare Posso prendere delle armi No, eh Questa non si spacca però, eh Vedi Mamma mia, lei mi sembrava vera, oh Eh, una di queste è vera, eh Bastarde Eccola Sapevo che è rivela te Fammi una katana È lei vera, è lei vera Ma no, non è vera Siete truccate come lei Ma non siete lei Oh, dico Pronti Avanti Molto agitato Adesso è bastone, oh Basta questi bastoni Non è nemmeno lei? Ah, mi dà il bastone Ottimo Minchia, questo è proprio Pulp Fiction Kill Bill Kill Bill, ragazzi Che è uguale, cazzo È identica Minchia, ma che eccitazione Ma è enorme poi Questi come cazzo li scrivi, ragazzi La vanna sia difficile La madonna Sì, lo sbagliate tutte Guardiamo stazione da fase Eeeh È lo stand Cosa fa? Vabbè, Naruto Siamo sicuri? Vada bene, stai Difficilissimo, ragazzi Va bene Ma è ingestibile Ingestibile Oh Porco due, ragazzi Mamma mia Sono fatto veramente super stronzo, ragazzi Ma Stronzo vuol dire stronzo Minchia Minchia Non è ingerito Un po' Non è ingerito Non è ingerito E voglio vedere Se ci sono delle armi Delle robe Allora, questi sono fortissimi Buono, buono Bella Questa Questa non l'avevano mai fatta Minchia Fortissimi No, ragazzi Ma sono fortissimi Già così il primo livello? C'è l'inizio del quarto livello? No, no, no Anche lei è fortissima, mi sa Guarda com'è grossa Ok No Questo ti dà addirittura due colpi No Porco due, raga Allora Qui non ci si può entrare Abbiamo capito Ma qua sì Ok Va da sé O mio dio Aspetta, vediamo se trovo delle armi Guarda, lei c'è una molto carina Dammela Questo la prendo io Yes No Ciccio, ciccio Non lo sapevo bastardo Scusate, oh Fermi Fermi, raga Maffan, curati Sgozzo E via Minchia quant'agente Ok Boia Sacri man Vai giù Vai giù Non vedo il cazzo Goto Ok Ah 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 in quest'area Ok Non ho capito Non ho capito Niente Niente che è successo Oddio Scusate ragazzi C'era una zanzale Quanto cazzo Quanto cazzo durate Dio cristo Dio Oh la madonna Ma che è Hanno fatto degli scavi Che è sta roba Ok Dove vado adesso però Bisogna andare giù Quindi qui cosa c'è Dove vò Ma dove sono gli idoli Mi spaventa un sacco Se ci sono tre idoli a livello Poi non si vede niente A correre forse Morto Ah ok Eh sopravvive Boss Sì Y'a un port Oh Oh Si Ok Eh va bene Bene Allez Ok Prima fase Vediamo la seconda Ho già paura Guarda Eh non la capisco bene Dario dai Ah guarda 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 che stronzo Che è sta roba Mi davano fastidio Esti sgambetti Maledetti Fammi vecchia Di merda Ale Ok Vabbè sconfitto L'ho sconfitto ma Non sblocco l'ultimo livello Madde Ok ragazzi Eeeh Devo riprovarci Eeeh Ok 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 Mado Ragazzi ultimo livello Vediamo com'è dai Riusciamo a arrivarci perché sei Mi mancano 200.000 Cavi dove le trovo Una missione di Hitman Così proprio L'obiettivo ovviamente è sbloccare le shortcut Ragazzi per arrivarci Se si può Eh figurati Ci mancherebbe Più che altro perché Faceva da segretario a un pezzo di merda Questi mi sembrano tutti tranquilli Però c'è una bella statuetta Quindi Se voleva Mentre lo so stracolacchio Ma calmatevi Cioè tranquilli Ragazzi Quanti Un po' meno Dai mazzala Eccoci qua Non capisco Non sapere né legge né piange Allora vediamo un po' cosa Cosa ci riserva questo piano Faccio uno scopettone Funzionerà con lo scopetto Ah però Vedi La trentasesima camera del Kung Fu Non so che obiettivo ho sbloccato Però Sono felice Ma ho sbagliato E qui ci sono già passato Vedendo il casino che ho combinato Posso? Dai vediamo un po' come è fatto Bello Bella l'aria Madonna sto sgambetto Già mi darà dei problemi Lo so già Ma non è possibile Ah Interessante Si riesce a capire Quando chiude la combo E tremento E tremento Però c'è la seconda fase A cui non arriverò mai Mi sono andato di peri Non di schivata Mi sembra il cammincato Però 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 Vediamo sta seconda fase Io ragazzi questa non... Come si fa? Niente. Niente. No! Niente finish, giusto? Niente finish. E adesso? Quella altta F4. Allora, ragazzi. Già mi tremano le mani. Coraggio, bisogna crederci. Io devo arrivare all'ultimo livello con 22 anni. Sto tentando di finirlo con meno di 25 anni, ed è stato riuscito a 26. Voglio recuperare quell'anno di merda, perché ti ho un trofeo molto interessante. E per arrivarci, devo ripartire dal museo. Perfetto. No, Dario no. No! 22, vaffanculo. E adesso passiamo al quarto boss, cazzo. Ok. E' culo. Allora. No! 22 anni anche con lei. E vai a casa, manca l'ultimo boss. Dai, boss. Oddio. Mamma mia, ragazzi. Dario, lo sgambetto. Ok. Sto sbagliato. No, dai! No! Eccoci qua, ragazzi. Certo, all'ultimo. Godo! Sì! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Goto Goto Passi pistola Madonna quanto godo Dai su amore Niente Risparmia Ganzo Vediamo Che figata Ma che figata Risparmia Dai Che figata Anche questo Vediamo ragazzi Che figata Dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scarzo una sega. L'ho finito a 25 anni e l'ho finito pure pacifist. Scarzo una sega. Adesso mi potete solo succhiare il caldo. Ok, Sifu. Sifu, 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 Sifu. Ecco qua. E volevo proprio questo. Volevo morire con il minion. E' proprio quello che volevo fare. E non sono un sogno interno. Questo gioco non fa per te. Eh, Luca, è l'ultimo boss. Che cazzo dici? Si vede che si fa tanto seghe Dario. Bella questa. Dario, c'è gaiola, non? Dario, c'è gaiola. 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 Dario, c'è gaiola.